L'artemide è una storia famiglia. Artemide è luce. Artemide è light plus something. Mudri è metamorfosi. Contempo è eleganza. Per me è lema in misura. Living Divani è cordialità. Living Divani è coraggio. Midi è innovazione e ricerca. Midi è Midi in Italy. Mutina è come una famiglia. Schifini per me è design heritage. Schifini è per me l'anima della cucina. Visionaire è sogno e artigianalità. Viva è maestro di legno. Riva è legno. Crystallia è chiaro. Crystallia è innovazione. Cielo è grande pièce. Cielo è l'ospitalità. Cielo è la ceramica. Kini è il nuovo italiano. Desalto per me è una famiglia di amici. Bofiev secondo me è coraggio e qualità. Cassina è la coesistenza della storia e del futuro. Chaos. Cassina è la cultura. Cappellini è la mia casa. Cappellini per me è il futuro. Noll è assolutamente excellence. Diablasco è la qualità. Pai Grande Diablasco è fresco. Zanotta è smart. Zanotta è ironia. Blostation è l'attitudine. Volevac è la master in the art of bathing. Innermost è l'unità. Innermost è l'innovazione. Tribute è precise e molto elegante. BD Barcelona è un'unità e qualità. Petite Fruture è libera. Volevac è autentica. De Padova è humanistica. De Padova è intemporello per me. De Padova è alta qualità. Floss è il perfetto partner. Glace Italia è un glace orchestra. Driade è un brin di folie. Driade è una storia lunga. Porro è super moderne. Gervasoni è fatica. Grazie a tutti.